È un po' il fiore all'occhiello della nostra associazione perché è la squadra che ci permette di far giocare ragazzi portatori di handicap con ragazzi normodotati e questo credo che sia un elemento di comunione all'interno dello sport che la nostra società offre che sia importante perché ci aiuta a condividere esperienze, a condividere valori, a essere solidali e a vivere un'esperienza di comunione che è davvero importante ed è la vera esperienza formativa che noi ci sentiamo di proporre come associazione e soprattutto come costone con tutto ciò che questo nome qui nella nostra città di Siena vuole dire. Siamo contenti anche di aver avuto il sostegno in questo tempo e soprattutto quest'anno di Estra che ci sostiene in tutto il nostro cammino e speriamo che questa collaborazione e questo sodalizio possa perdurare nel tempo. Noi del PD Estra sosteniamo il baskin ormai da un anno, il baskin l'abbiamo scelto, l'abbiamo voluto e infatti entrare nel nostro circuito Estra Pro Club perché è un circuito nel quale si privilegiano dei valori essenziali, quali appunto quelli che il baskin rende vivi e alimenta ogni giorno, cioè l'inclusione, la solidarietà, i valori proprio che possono fare la differenza per tanti bambini o ragazzi che si trovano in difficoltà.